Andrea Sussi alla vigilia di questo recupero contro lo Scandicci, non sarà facile per molte ragioni? Non sarà facile per tante ragioni, uno perché sarà meno tempo a disposizione, due perché abbiamo avuto tanti problemi in settimana e anche prima, quindi la rosa è un po' risicata, però con la città abbiamo scelto di fare, di installare una rosa ampia, ho diversi cittadini a disposizione, quindi questo mi permette anche di sopperire a infortuni, squalifiche e virus compreso. Si partirà dal risultato di parità e ci sarà, come hai accennato, meno tempo a disposizione, però sarebbe fondamentale davvero iniziare questo 2022 con una vittoria. Sì, dovremmo sfruttare al massimo le occasioni che avremo e stare attenti in fase difensiva con raddoppi, coperture, diagonali ben fatte per subire poco, questo perché il tempo sarà poco e dobbiamo cercare di non subire go. Poi l'importanza della partita la sappiamo, giochiamo solo noi, quindi potrebbe essere una partita dove ci permette di accorciare le distanze dalle prime. Dal punto di vista fisico e morale, come sta lo spogliatoio? Bene, dal punto di vista morale è bene perché ritorniamo a giocare, quindi ho visto tanta voglia e entusiasmo. Dal punto di vista fisico è bene, ci siamo sempre allenati, anche se il numero è ridotto, però i ragazzi sono sempre impegnati, hanno fatto tutto quello che il prof gli ha proposto. Abbiamo cercato anche di fare dei lavori personalizzati perché c'era gente che rientrava dalla quarantena, gente che rientrava dagli infortuni, ma negli ultimi due allenamenti siamo ritornati ad essere un gruppo di 20 e ho visto la stessa applicazione, la stessa voglia, la stessa voglia di andare al massimo che c'era prima della sosta. Mi auguro che questi ragazzi mantengano la rabbia, la voglia e la cattiveria di raggiungere un obiettivo che ancora oggi sembra lontano, ma se ci crediamo tutti insieme io credo che ce la possiamo fare perché è una rosa ampia, è una rosa che ha dentro giocatori di qualità che possono spostare gli equilibri in ogni minuto della partita, quindi bisogna crederci, bisogna credere di poterli andare a riprendere.